Calcio Mercato con Massimo Profeta che mi ha raggiunto in studio, benvenuto Massimo di nuovo. Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici. Allora ci sono delle novità, illuminaci. Guarda ti dico, oggi novità ben poche, ci sono trattative in corso, ricordiamo quella principale, nel senso che insomma sono giorni che se ne parla Antonino De Marco, questa pezzata del 2004, un giocatore molto interessante, di prospettiva, che si è messo in evidenza nella Vibonese, è stato consigliato da Modica Zeeman, sappiamo il rapporto che c'è tra Modica Zeeman, Modica ha avuto alle sue dipendenze questo ragazzo lo scorso anno nella Vibonese, 26 presenze e 4 gol, ho sentito anche Pippo Caffo che è la presidente della Vibonese, Amaro del Capo, non so se... E come no? Devo dire che è una persona intanto gradevolissima, molto disponibile, ci tengo a dirlo perché nel calcio difficilmente si trovano personaggi del genere, al telefono mi ha detto tranquillamente nella giornata di ieri, specifico nella giornata di ieri abbiamo trovato l'intesa sulla percentuale legata alla futura rivendita di questo giocatore che si chiama appunto De Marco, manca però tutto il resto, è stato molto sincero Pippo Caffo, vedremo quello che succederà, filtra comunque ottimismo, io ho sentito anche Delicarri, poco fa mi ha detto la stessa cosa, tra l'altro Delicarri è fortissimo su un attaccante, ne abbiamo parlato con dovizia di particolare negli ultimi giorni, Cristian Tommasini che è di proprietà del Pisa, quest'anno ha fatto molto bene a Tarato, 8 gol in 31 presenza, attenzione perché gli 8 gol di Tommasini non sono affatto male caro Paolo perché io sono andato a controllare i gol realizzati dal Tarato quest'anno, il Tarato di Capuano che ha fatto un grande campionato, insomma si è salvato, anzi ha sfiorato i playoff, è il secondo peggior attacco quest'anno dei tre gironi della Serie C con 26 gol di cui 8 realizzati da Tommasini, insomma niente male come score, questo lo dicevo perché? Perché a prescindere dal destino di Vergani, quindi arriverà un altro attaccante e Delicarri punta tantissimo su Cristian Tommasini, è stato già bloccato, è di proprietà del Pisa ma non ci sono problemi né con il giocatore, quindi col suo procuratore Fabrizio Ferrari che ho sentito né tantomeno con il Pisa, è chiaro che non potrà aspettare in eterno questo ragazzo, diciamo che entro martedì sapremo che cosa succederà, indipendentemente ribadisco dal destino di Vergani su cui punta tantissimo il tecnico Boemo. Detto questo manca un terzino destro da affiancare a Federico Pierno, anche qui c'è la trattativa per Pierozzi della Fiorentina, classe 2001, si attende una risposta da parte della Fiorentina perché l'ostacolo principale sarebbe rappresentato, siamo sempre condizionali a quanto mai di rigore, dall'ingaggio, però questo ostacolo è facilmente superabile diciamo così dalla volontà di Pierozzi che ha già manifestato la sua intenzione di trasferirsi a Pescara. Arriverebbe in prestito secco l'alternativa è Floriani, Romano Floriani Mussolini del 2003 ha già vent'anni, non ha mai giocato in Serie C, ha esperienza in primavera di proprietà della Lazio che ha già dato, avrebbe già dato sempre il condizionale quanto mai di rigore, avrebbe già dato il placet al trasferimento in prestito al Pescara. Queste notizie, diamo uno sguardo anche Paolo alla rosa del Pescara in questo momento, siamo soltanto al 19 di luglio, quindi insomma sono passati neanche 20 giorni all'inizio del mercato, allora siccome si diceva, questa è la considerazione, per esempio il centro capo, quando è arrivato Zeman tutti dicevano che era il centro capo perfetto per il tipo di gioco del Boemo e infatti talmente perfetto che sono andati via tutti. Quindi evidentemente qualcosa era stato sbagliato nella valutazione perché se andiamo a vedere, dello scorso anno sono rimasti solo Aloy e Mora, e Mora dobbiamo ancora capire che futuro avrà, perché Mora ha già detto ai dirigenti che vuole giocare, è chiaro che Zeman non gli può garantire la maglia del titolare, però è un giocatore importante, vedremo quello che accadrà. Ecco, ho fatto l'esempio del centro campo perché effettivamente lo scorso anno era sicuramente una buonissima squadra, ma al centro campo non c'erano proprio le caratteristiche giuste, ideali, funzionali per il tipo di gioco, per il tipo di credo del Boemo. Ti dico anche che c'è un amichevole già in programma con il Pineto, giovedì 10 agosto, credo di aver sbagliato il giorno, sì, giovedì 10 agosto, si giocherà a Silvi Marina, naturalmente da definire l'orario, sempre per quanto riguarda il Pineto, prima di chiudere, ieri abbiamo dato la notizia, l'ingaggio di Gianmarco Ingrosso, contratto biennale per il 34enne difensore Salentino, un rinforzo sicuramente dell'esperienza per la squadra di Daniele Ammaolo, ricordiamo ne ho promossa nel campionato di Serie C, Marcello Di Giuseppe ha già fatto tantissimo in sede di mercato, è chiaro che deve trovare due esterni per il 3-5-2, i nomi sono sempre gli stessi, li abbiamo anticipati, Marco Pagliari che è un terzino sinistro classe 2004, lo scorso anno nel Flaminio in Serie D, cresciuto calcisticamente nella Ternana e Vincenzo Galletta, terzino destro, classe 2003, ex afragolese e casertano lo scorso anno a Caserta, ma cresciuto nell'Ascoli.